Messori. Quella volta che Roll mi sconvolse, Vittorio Messori, da tempo il più noto giornalista e scrittore cattolico italiano, è ora personaggio di livello mondiale come protagonista di un avvenimento senza precedenti nella storia del Vaticano. Ha rivolto a Papa Voitiua una serie di domande e l'intervista, per mole e profondità dei temi trattati, è pubblicata in un volume, Varcare la soglia della speranza, che già circola in tutto il mondo in decine di milioni di copie. Messori, in occasione della morte di Roll, ha scritto per sette, il settimanale del Corriere della Sera, un articolo intitolato, Quella volta che mi sconvolse. È di grande interesse, non solo per lo svolgimento e il risultato dell'esperimento eseguito da Roll, ma anche per il giudizio che Messori dà di lui come cattolico. Sono grato all'amico Vittorio e alla direzione di sette per la loro gentile concessione di realizzare l'articolo integralmente. Le carte da gioco di cui spesso si serviva svegliavano la diffidenza di chi lo sospettava di essere il più amabile e raffinato dei prestigiatori. E invece, ripeteva, quelle carte non erano che un mezzo comodo ed efficace per dare ai suoi, esperimenti, delle capacità nascoste dell'uomo. Esperimenti, non fini a se stessi, non divertismane eleganti, ma perseguiti per far riflettere ben più che per sbalordire. Ma anche la sorpresa, talvolta il timore, il desiderio dell'ospite di fuggire da quella casa inquietante di via Silvio Pellico 31, presso il Parco del Valentino, avevano per lui un valore pedagogico. Mostra con fatti tanto concreti quanto inspiegabili l'angustia degli schemi illuministi, l'errore di confondere la vera, ragione, con il gretto scientismo ottocentesco. Credente, ma non nel vago Dio degli ignostici, degli umanisti, dei sincretisti, bensì nel Dio di Gesù Cristo, anzi, nel Dio cattolico, malgrado i legami, anche familiari, con l'Europa nordica, Gustavo Adolfo Roll praticava con coerenza un suo straordinario, apostolato. Come mi confermò nell'ultima telefonata, alcuni mesi fa, le capacità che solo Dio, diceva, gli aveva dato le utilizzava per confondere gli atei, per far riflettere gli ignostici, per confermare i cristiani. I suoi funerali religiosi, in quel grigio quartiere di San Salvario dove si fiancheggiano il Tempio Valdese, l'ebraico, la chiesa salesiana voluta da Don Bosco, sono stati l'ultima affermazione di fede. Si conversava, un giorno, era con me Giuditta Dembeck, nel grande salone in stile impero, in attesa di trasferirci nell'ambiente attiguo per gli esperimenti. Si venne a parlare di quel cottolengo dove Roll, mi dicono, era una presenza abituale e benefica e che, come si sa, non vive che di ciò che, giorno per giorno, offre la provvidenza. Sapevo bene che non aveva mai voluto approfittare per sé delle sue capacità inspiegabili. Ma per qual motivo non per gli altri? Dottor Roll, gli chiesi dunque, perché, con questa sua possibilità, mille volte provata, di prevedere ciò che uscirà da un mazzo di carte o da una roulette, non sbanca un casino, perché non sottrarre qualche miliardo a quegli speculatori per dirottarli verso chi ne ha bisogno. Sorrise e lasciò cadere la domanda. Poco dopo, ci sedemmo attorno al gran tavolo antico. Lui era un capo, io un altro, a notevole distanza l'uno dall'altro. La luce nell'ambiente era piena, non era ancora del tutto buio e i lampadari di cristallo erano accesi. Dopo qualche incredibile quanto consueto, per lui, esperimento con le carte, mi si rivolse all'improvviso. Caro amico, voglio rispondere alla sua domanda. Si alzi, nel cassetto di quel tavolino si trova una risma di fogli bianchi. Ne prenda alcuni, li esamini uno ad uno, ne controlli la filigrana in controluce. Poi li ripieghi in quattro e li infili nella tasca interna della sua giacca. E chiuda bene il bottone. Eseguii, e tornai al mio posto. Roll non si era mosso dal suo, non ci si era sfiorati. Per un attimo piegò la testa all, indietro, scrisse, nell'aria con una sua matita, famosa tra i suoi frequentatori, rivestita di bambù. Subito dopo mi disse di estrarre dalla giacca i fogli bianchi che avevo controllato a uno a uno e che io solo avevo toccato. Sul foglio più interno stava scritta, a matita, risposta la mia domanda. Sarebbe una beneficenza fatta senza sacrificio. Quindi non avrebbe valore alcuno. Qui, una parola indecifrabile, NDR, dello spirito di Roll, volle che gli consegnassi il foglio. Con la stessa matita, anche se in carattere più marcato, e con la stessa calligrafia, era inconfondibilmente sua quella, apparsa, di colpo nella mia tasca, quasi che la grafite si fosse depositata venendo dall'aria, scrisse. Proprietà del dottor Vittorio Messori, 1L aprile 1989. R, lo arrotolò e me lo consegnò, per ricordo. Quando, tempo dopo, mi capitò di raccontare l'episodio, uno tra i mille e mille che tanti possono narrare, trovai, naturalmente, chi volle convincermi che, malgrado tutto, il trucco c'era. Ho vagliato ogni obiezione, ma nessuna, onestamente, mi sembra reggere. Così, preferisco guardare ogni tanto quel pezzo di carta per ricordarmi che, ci sono più cose tra cielo e terra. Con quel che segue. Lodo e incoraggio coloro che ci esortano alla prudenza, anzi alla diffidenza. Eppure, chissà in un mare di illusioni, errori, truffe esiste anche una pepita di verità che non può essere rifiutata proprio dai cristiani, da coloro, cioè, che credono che nel mondo ci sia posto anche per l'imprevisto e l'inspiegabile, che ammettono che il mistero è ben più grande della nostra scienza.